Siamo con l'allenatore del Pianopoli, Francesco Scerbo. Questa era una partita molto importante. Era la prima contro la seconda in classifica. Come avevate preparato la partita? E guardi, diciamo che conoscendoci con il Giri Falco sapevamo come giocavano. Sapevamo che comunque il mister giocatore Giampa aveva dato un salto di qualità ai propri giocatori valorizzando al massimo. Sapevamo che erano bravi a partire da dietro giocando a calcio. Quindi non la classica seconda categoria, un calcio in avanti e poi quello che ne esce ne esce. Quindi sapevamo che se avessimo spostato i loro giochi in avanti avremmo sofferto. 70, anche perché lì davanti hanno qualità, hanno quantità e riescono a fare gol. Quindi abbiamo deciso di comunque giocarci alla pari, anche se magari qualcuno ci diceva che il pareggio andava bene. In realtà abbiamo giocato sin dall'inizio per vincere, quindi abbiamo prestati alti. Ci è andata anche bene in qualche episodio, però l'importante era andare in vantaggio e poi cercare di chiuderla. Non ci siamo riusciti, però abbiamo gestito il risultato e va bene così. Una grande vittoria. Ecco, una vittoria dove appunto ora siete più 9 dall'Euro Giri Falco, quindi diciamo ormai manca poco al campionato e l'avanzamento nella prima categoria ormai è quasi certo. Sì, diciamo di sì, anche perché, vabbè, ora andiamo a Campora, poi abbiamo il parente in casa e poi l'ultima andiamo a Nova Valle. Abbiamo due trasferte, però Nova Valle non sappiamo in che condizioni la troviamo. In più l'Euro Giri Falco avrà ancora tante sfide importanti. L'ultima, con la terza in classifica, giocano in casa Giri Falco-Mortilla. Ci reputiamo in maniera molto umile, però anche obiettiva, quasi con dei piedi totalmente in prima categoria. Anche perché noi onoreremo il campionato fino alla fine. Abbiamo fatto il massimo ed è giusto che, anche se dovesse mettere fuori dei giochi perché già in prima, comunque è giusto dare battaglia su ogni campo, anche per quello che è lo sport del calcio. Allora, Domenico Giampa ha messo l'Euro Giri Falco. Oggi era una partita molto importante, prima contro seconda in classifica. L'Euro Giri Falco è arrivata qui sicuramente con grinta, ma purtroppo il risultato è stato a suo sfapore. Che cosa gli è mancato veramente alla squadra? No, non è mancato niente. Abbiamo fatto una buona partita, due squadre forti, quindi ci poteva decidere anche con l'episodio. Abbiamo creato qualche palle-goll anche noi, non siamo riusciti a segnare. Loro hanno fatto gol al primo tiro in porta, però questo è anche il calcio. Quindi avevano due risultati su tre, siamo due squadre che secondo me meritiamo tutte e due di salire. Hanno dimostrato per tutto il campionato loro che sono una squadra forte, quindi meritano che sono saliti diretti. E adesso sta a noi giocarci i play-off in casa, perché il nostro campionato non finisce oggi e questa partita ci deve dare la forza per proseguire, perché credo che nonostante abbiamo perso, la squadra ha fatto una partita importante. Ecco, ora siamo mai giunti agli ultimi partiti del campionato. Come preparerà la squadra in vista delle ultime partite? Anche perché l'ultima in casa sarà quella decisiva un po'. Speriamo che è decisiva, se riusciamo ad arrivare più dieci, se no per adesso questa è una partita che ci deve dare la consapevolezza che siamo una squadra forte anche noi, perché credo che nessuna squadra è venuta qua a Pianopoli a comandare il gioco dal primo minuto, però non è che magari uno comanda il gioco e vince, quindi loro hanno fatto, chi vince ha sempre ragione. Però, come ho detto, sono contento della squadra, non cambia niente, proseguiamo a lavorare come stiamo facendo.